Riprende l'udienza preliminare del processo mediatrei da Milano, Berlusconi, in aula per la prima volta in otto anni, è uno dei dodici imputati per frode fiscale e appropriazione in debita di diritti televisivi. E davanti al tribunale ci sono stati tafferugli tra pro e contro a immagine di un paese diviso qui come nelle urne. Se deve presentarsi, deve farlo, come tutti. La giustizia è per tutti. Per me è comunque tutta una percorso che hanno verso di lui. Ormai l'hanno preso di mira. Sono l'uomo più imputato dell'universo e della storia, vittima dei comunisti, ha dichiarato il Premier. È il mio venticinquesimo processo, me ne restano cinque civili e uno penale. Ma in 17 anni sono oltre mille i magistrati che se ne sono occupati senza successo. Il 6 aprile sarà alla sbarra per il Bunga Bunga.